Questa vicinanza che noi abbiamo nei confronti del nostro di Roma, quindi del Presidente, ma anche del governo, ci ha portato ad avere qui a Vercelli il sottosegretario ai beni culturali e al turismo, Francesca Barracciu. Questo accordo di venire a Vercelli è un accordo di vecchia data, finalmente siamo riusciti a realizzarlo ed è stata l'occasione per far visitare quelle che sono le eccellenze, una parte purtroppo i tempi sono stati stretti, abbiamo potuto fare un sopralluogo alla Basilica del Sant'Andrea, abbiamo fatto un sopralluogo ad Arca, al Museo Leone, abbiamo fatto una passeggiata in centro, ha potuto gustare la delizia della nostra piazza Cavour, ma l'aspetto importante è che abbiamo potuto confrontarci per avviare un'azione di collaborazione, per realizzare progetti che portino valore aggiunto a Vercelli, che portino finanziamenti, che portino occasioni. A breve avremo modo di ritrovarci proprio per mettere a punto delle attività comuni, ma l'aspetto importante è Vercelli, ma non solo Vercelli. L'indirizzo è stato fate rete con altre realtà perché più fate massa critica, meglio sarà. L'invito comune è di lavorare con le altre città, con Casale Monferrato l'abbiamo già fatto, con Biella, Novara e con Suetudine, per cui ci sarà modo di fare rete e di portare occasioni sempre più importanti a Vercelli.